Siamo con Elia De Silvestro nel dopogara di Grosseto-Olbia, 1-1 a 0 per l'Olbia, che lascia tanto ramare, risultato giusto forse è il pari? No, in realtà secondo me la partita, soprattutto il primo tempo, che abbiamo avuto diverse occasioni, la meritavamo noi. Il secondo magari ne abbiamo avute poche nitide, però loro non avevano creato grandi problemi. È arrivato questo gol all'ultimo minuto che ci fa arrabbiare ulteriormente. Come si esce da una situazione del genere? Grosseto che manca mai la vittoria da oltre 231 giorni, insomma, è un dato che relega il Grosseto, una delle quattro squadre in Italia, nel calcio professionistico, non ha mai vinto nel girono di ritorno, nel girono di scusa di andata. Niente, testa bassa e lavorare, è l'unica ricetta che possiamo seguire. Grosseto che sembra fare bene, come sempre, fino alla tre quarti, poi manca sempre il guizzo, manca quel qualcosa che consente di arrivare alla conclusione, insomma, con una certa continuità se non altro. Sì, 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 hai detto bene. Vedremo di migliorare questi aspetti e speriamo di giocarci un girono di ritorno all'altezza della piazza. Quando torneremo a vedere il De Silvestro intravisto a inizio stagione prima dell'infortunio? Io sono rientrato questa settimana con la squadra, ora piano piano riprendo il ritmo e dalle prossime sicuramente entra sempre meglio. Sei arrivato con un'evidente rabbia, oltre che il rammarico. Cosa ti viene di dire di impulso? Al di là del risultato della partita, cosa hai dentro che vuoi tirare fuori, anche facendolo poi vedere in campo? No, ma da dire non c'è da dire niente, c'è soltanto da fare. Domani ci alleneremo per affrontare la partita con il Modena e quindi dalle parole ormai sono finite, non servono più. Grazie mille. A voi.